in valle d'aosta funziona così a giugno sono partito con un sole coccente poi d'improvviso ci si trova in mezzo alle nuvole oggi vado a rifugio chaligne sono circa mille metri di slivello scenderò sul sentiero numero 2 a spettacolo ed eccoci in arrivo a rifugio vi faccio vedere il cartello eccolo qua rifugio chaligne eccoci arrivati al punto di partenza della discesa c'è questo piccolo spiazzo con le panchine per arrivarci molto semplice praticamente si attraversa tutto il rifugio si passa dietro la stalla e si prende il sentiero numero 2 c'è un leggero portaggio di una cinquantina di metri nulla di complicato e poi se volete ripetere lo stesso sentiero che farò io non ritornate dal lato rifugio dove c'è appunto il cartello rifugio chaligne ma prendete il primo sentiero che scende sulla sua destra che è questo qui e si parte con condizioni del sentiero pessime è bagnatissimo no 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 Spivato l'albero al cielo Da qua in giù è uno spettacolo, un vero spettacolo Io ho già fatto del suo spostando le piede Gas Gas Che gas Guardate qua che spettacolo Che canalino nel bosco Che rischi ad entrare nella canalina E qua Due Continuiamo Guardate che spettacolo Qua si apre tutta la vista stupenda sua ossa Che gas Che gas ragazzi Che gas Che gas Che gas Che gas Grazie a tutti. Grazie a tutti.